Aaaaaaah! Oddio c'è sangue anche! Ciao a tutti, bentornati su Anita Stories! Ciao! Oggi speciale Halloween, iniziano gli speciali Halloween in anticipo! Fatemi sapere se mi piace Halloween, io adoro Halloween! Oggi faremo un Popping Balloons tema Halloween! Anch'io adoro Haulin! Allora, dentro ogni palloncino ci sono ingredienti HORROR! Tema Halloween appunto! Quindi non solo i palloncini sono tema Halloween, ma anche gli ingredienti! Carino questa forma di fantaspino! Quindi questa volta non vincerà chi ha lo slime più bello, ma vincerà chi ha lo slime più horror e inquietante! Per tutto! No più horror e Halloween! Più tema Halloween! E sarete voi a deciderlo perché alla fine del video metterò il sondaggio qua in cui potrete votare se ho vinto io o se ho vinto Vitale! Quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine, fate il tipo O per me! Oggi team blu e team rosso! Per chi votate! Lasciate un bel like se volete vedere altri speciali Halloween! Se questo video raggiunge i 10.000 likes andremo a fare lo stesso gli ingredienti HORROR Halloween però nei guanti! Quindi mettetevi comodi patatine, popcorn e iniziamo subito! Vediamo le nostre bende perché abbiamo letto i vostri commenti e avete detto che... Io già non vedo bene di mio! Tanto che senza occhiali io già neanche mi vedo così in uno schermino! E' vero, non è già Vitale è una talpa! Quindi non penso che abbia barato ma non si sa mai! Allora mettiamo la nostra penda! Ah, già questa è così! Si! Ciao a tutti! Eh? Che stai facendo? Niente! E' girato? No! Girale se non ti guardo che paro! Posso? Vai vai! Primo che prendo o scendo giù? Primo che prendo? Questo! No! Ma devi zomba! Aspetta che rivistio! Vai! Preso? Ok! Che colore? Bianco! Posso aprire la penda? Sì! Abbiamo già la colla qua dentro, la colla trasparente così si vedranno bene tutte le cose! Stai benissimo! Io lo vedo bene! Allora, inizia il tuo popping! Comincio già io? Sì! Dio! C'è un tentacolo! C'è un tentacolone! Allora, ora lo scoppio anch'io e poi ve lo facciamo vedere che lo vicino! Hai messo bene la maschera? Sì! Non ci vedo! Aspetta che giro i guadoncini! Quale scegli? Questo! Ottimo! Non mi dire! Eh! Mi sa! No vabbè! Guardate! Si vede già attraverso! Non ci posso credere! Io non ho fatto niente! Lo sono girato! L'hai messo davanti! No! Non è vero per niente! Non so se siete riusciti a vedere! Ma io vedo un verde attraverso! Non ci posso credere! La posizione del verde! La posizione si distorce! Quello con i miei capelli! Ho paura! Ho paura! Attenta che non sprodoli dappertutto! Che canone! Anche tu hai paura! Aiuto! Ma non hai scoppiato! Si è scoppiato! Ok! Che cosa c'è? Oddio! Sta partorendo! Sta uscendo qualcosa di verde schifoso! Non sembra molto! Ah! Che schifo! Ok! Decisamente è verde e c'è un mostro schifoso dentro! Quel colorante dentro lo mettiamo! Si! Lo sto mettendo! E' che è rimasto incollato! Ora guardate che schifo! Vi faccio vedere che cosa c'è qua! Ovviamente il verde! Cioè al primo turno la maledizione del verde! Guardate questo mostro! Se lo schiacci! No! Non riesco a schiacciarlo! Comunque gli esce l'occhio di fuori! No! Non ci riesco adesso! Però una volta che lo slime sarà attivo ve lo farò vedere meglio! Quindi secondo voi qual'è più schifoso finora? Non fa proprio senso! E c'è un grande tentacolone qui in mezzo! Qui in mezzo alla colla! Sta strano! Tentacolone! Adesso? Si! Vendati! Aspetta eh! Wow! Che bello! Sembra 3D! Cosa? Non è soltanto niente! L'occhio è tutto nero! Vai! Questa è la scatola? Sta qui! Si! Ok! Non ho idea di cosa ci sia dentro! Perché non si vede! Dai! Scoppiamo! La zucchetta! Ha scoppiato! Aiuto! Ah! No! Ha scoppiato! C'è qualcosa di grosso dentro! Taglia sopra! Dovevi farlo scoppiare! Non ce l'ho fatta! Allora guardiamo! Che cosa c'è dentro? C'è qualcosa di grosso dentro! Taglia sopra! Dovevi farlo scoppiare! Non ce l'ho fatta! Allora guardiamo! Che cosa c'è dentro? C'è una cosa stranissima! Oh! Sono ragni con il sangue! Oh! E qui sono sporcato anch'io! Oddio! Penso che finora il tuo sia più horror del mio! Perché questi ragni con il panno fanno un senso! Ora pesco io! Peschi lei! Ok! Aspetta! Devo usciare tutto qua! Mischiamo! Vai! No! Oh! Questo! Ok! Una zucchetta! Cosa ci sarà qua dentro? Speriamo di riuscire a farla esplodere! No! Ma perché? Perché non esplode? Tagliamolo! Vediamo un po'! Che cos'è? Ah! Qua ci sono due occhi di serpente! Perfetto! Ora vi facciamo vedere meglio! Allora! Guardate un po' cosa c'è qua dentro! Cosa è uscito! No! Non si vede! Sono occhi... Ah no! Non di serpente! Sono occhi di vampiro! Sono occhi... Che paura! Forse sì! Di serpente! Sono occhi di mostro! Oh! Sono inquietantissimi! E ce n'è anche un altro che è uguale rosso! E poi quel liquido marroncino lì! Insieme a questo mostrocciattolo! Quindi quale fa più schifo finora? Mi fanno paurissimo! Oddio! Ora con ciò c'è il sangue! Uh! Ora diventa tutto rosso sangue! Meglio di verde ma vabbè! Uh! Non posso tentare! I ragni ce l'ho! Ho tre ragni più il sangue! Uh! Che poppa mia! Forse mi fa più schifo questo! E' più horror questo secondo me finora! Ti do, aspetta che vedo così! Vai! Ok! Un'altra cosca! Ma sono zucche hai pescato? Eh! No! Prendo uno! Era bianco! Il primo era proprio questo qui! Non so se si vede in camera! C'è delle strisce! Oddio! Sì! Sanguinose! Altro sangue! Fanno scoppiare questo! Fanno scoppiare questo! Fatti! Dai! Ah! Ah! Yeee! E' scoppiato! Anche se poco! Beh! Mi ce l'ho sporchiato tutto! Dove? Eh! La maglietta! Il dito! Oh no! Mi sei sporcato di sangue! Sì! E' sangue! Sì! Oddio! Sembra vero! Spero di non aver sporcato tutto! No! Sembra vero! Qua impressione! Che c'è dentro? Svuota! Oh! Glocce di sangue! C'è qualcos'altro! Eh! Mi ero dimenticata cosa c'era qua! Qua c'è sangue mischiato a zucchero filato! Che è tutto reglumato! Non so cosa si vede! Quindi sembra sangue con pezzettini di carne! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Aspetta eh! Aspetta! Li mettiamo tutti sullo stesso punto! Se no dicono che... Ti metto quelli la davanti! Nei commenti! E' vero! Allora! Ah! Hai preso una zucchetta! Ha preso un sacco! Aiuto! Questo schifo va per tutto! Nooo! Tieni! Tu sei scappato in un altro pianeta proprio! Ma volevo! Ma sta scorreggiando? Oh mio Dio! Sembra che l'ho assassinato! Oh Dio! Continua a prendere un sacco di sangue! Assassino di zucchero! No! Vabbè! Oltre a sangue qua ci sono i vermi! Ho beccato i vermi! Nooo! Mio Dio! Fanno schifo! Mi fa senso guardarli! Andiamo da vicino! Guardate un po'! Ora c'è un mix tra verde e rosso! Spero che diventi più rosso! Ma guardate qua! Guardate! Un vermi di ciattolino! I vermi! Eeeeh! Eeeeh! E' pure vicidoso! Eeeeh! Che schifo! Mischiamolo! Speriamo che vada via il verde! Ma mi sa di sì! Si sa di sì! Eeeeh! Viva! Ti avvicini anche tu al tema Halloween! Stanno uscendo le bolle! Stanno facendo le bolle! Quindi, finora quale fa più schifo? Il mio di Halloween ha gli occhi il mostro e i vermi! Il tentacolone! Ah, vero! E' uscito il sangue! Aspetta che lo mischio! Si vede tutto il sangue là sotto! Che strano! L'ho detto! E' tipo tutto ragrumato! Un tentacolone! I tre ragnetti verdi! E' l'altro sangue! E' ancora più rosso sangue! Si! Fa paura! Chissà chi vincerà! Ultimo pescaggio! Chiudi! Aspetta eh! Mischia bene tutto eh! Si! Tanto ce ne sono solo due! Aspetta! 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 Vai! Che stai facendo? Pronto! Prende! Tadà! Hai preso il fantasma! OOOH! Che cosa ci hai detto questo panitasma? E' troppo carino! Mi ricorda Jack di Nightmare Before Christmas! Io amo quel film! Fatemi sapere se vi piacciono anche a voi No! Oddio! Che sta facendo? Si sta uscendo dall'occhio Ma che cos'è? E' uno slime Ma c'è qualcosa dentro? Lo scheletro! Oddio Questo è inquietantissimo Tra l'altro è tipo verde Un colore strano Chissà come ci sta E io non devo più pescare bendata Perchè ne è rimasto solo uno No! Non è scoppiato anche questo Vediamo se esce da Che cos'è? Mmm Ma quanti buchi hai fatto? Ehm C'è qualcosa dentro Che cos'è? Schermo da barba? Ma c'è qualcosa di grosso dentro Nooo Ho capito qual'è Qual'è? Guarda Un occhio Ehm Ehm Vediamo un po' Ma il tuo ha tre occhi quindi Oddio si è vero è pieno di occhi Guardate Guardate C'è un occhio venoso dentro Buuuu Direi che ora il mio è molto inquietante Mi schiavolo Ehm Ehm Stranamente nessuno dei Nessuno dei due ha preso il color verde Stranamente Mi sono salvata No L'hai preso Sì Però poi dopo è diventato rosso Mi sono salvata Oddio Il mio sembra che abbia due occhi Uno diverso dall'altro Poi gli altri non so dove sono finiti E i vermi fortunatamente non si vedono molto adesso Stanno mangiando Baaah Vediamo il tuo Oddio Inquietantissimo con quello scheletro e lo slime dentro Mischia Vediamo se si mischia Uuuu Speriamo bene con quello slime dentro Oddio Guarda Questo qua ha paura questo scheletro Con I ragni Uuuu Oddio Come si farà ad attivare questo? Eh farà bello difficile ad attivare Stranissimo Wow Finora quale pensate che sia ben inquietante? Poi una volta attivo sarà anche diverso Infatti si eh Dobbiamo vedere adesso che si attiva Comunque il mio si fa parecchio paura Sì Ragni Scheletro Tentacolo E melma Verde Verde? Dici che è verde Eh mi sembra vero Ok ora andiamo ad attivare il nostro slime super horror Halloween Guarda come naviga questo tutto sciolto E poi ve li facciamo vedere bene uno ad uno così potrete votare per quanto è horror, quanto è Halloween e per i suoni ASMR Ma tanto io ho già la mia fan base che vota comunque vitale Nooo È sempre vitale È giusto Allora ragazzi ecco qua il mio slime Qua potete vedere l'occhio e qua c'è lo squishy che vi faccio vedere guardate un po' Qua Qua Oho Nooo Ma come? Cioè In realtà gli usciva questo coso e guardate Però è scappato via Eh vabbè Vabbè Allora riempiamo questo di slime Mi sembra che sta vomitando slime Sì Cioè Ok ora il mostricciattolo perde slime dall'occhio e c'è rimasta questa mini stress ball molto carina e che ha qualcosa dentro un liquido penso Comunque lo slime Ah guardate qua c'è anche un occhio di mostro o non so cosa I vermi sono qua da qualche parte Lo slime è diventato rosa purtroppo non è un colore molto da Halloween Però non so come si è trasformato in uno slime super rosa Qua che cosa abbiamo? Ah la pallina vediamo ecco il verbo ecco il verbo guardate che schifo Eccolo qua vicinissimo e ora vi faccio sentire i suoni ASMR Vitale sta controllando il poking Eh? C'era un commento ieri sul video di ieri che diceva Vitale lo fa apposta a fare il poking male Dice no no io proprio non lo so fare Hai visto penso che in realtà sei un esperto Che bravi Quindi questo è il mio slime Dategli un voto da 1 a 10 per aspetto Halloween e per suoni ASMR Vediamo ora quello di Vitale Il mio slime allora innanzitutto sono contento del colore Di questo slime C'è un po' di cosa all'interno Allora partiamo già dal ragnetto che si può vedere qui Uno, due e tre ragnetti inclusi Poi abbiamo uno scheletro qui E il tentacolone mamma mia Mi piace molto perché è un po' trasparente Col colore rosso sangue tipico di Halloween Tipico di Halloween E si E poi questi ragnetti sono proprio Insieme allo scheletro sono proprio lato Quindi non c'è niente da fare Poi è super elastico Adesso andiamo a vedere i rumori insieme Molto scoppiettante E adesso proviamo a fare il pogging Vediamo se esce Vediamo Ah poi avevo dimenticato Ma c'era anche il Lo slime Quello lì Color petrolio Incluso qua dentro Che è stato assorbito penso Da questo slime malefico E ormai non si vede più il colore Il colore scuro Perché è tutto rosso ormai Ok Andiamo di pogging Non funziona Errore 404 No Non ce la fai proprio eh No non fa Non fa Fa più rumore così Fa Comunque no Il pogging non c'è però dai Non c'è Il stile Halloween Ci siamo proprio qui Guarda Guardate che è molto inquietante Eh si Poi è super allungabile E trasparente Ok Allora ditemi che ne pensate Votate E votate per me Ah si Sì Sì Allora ragazzi Vi lascio ora qua Il sondaggio su cui potete votare Se ho vinto io o se ho vinto Vitale In base a quanto è inquietante lo slime Quanto è stile Halloween Questo è Halloween Questo è Halloween 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 Anche tu se lo vuoi Cantare la ballata della zucca con noi Ma che stai lì E fai to wear me for Christmas A chi piace? Chi lo rivedrà ad Halloween? Hai già dato lo slime Mi piace tantissimo Jessica è fantastico Scriveteci pure nei commenti quali altri video di Halloween volete che facciamo Le migliori idee Vi metterò un cuoricino E andremo a farle E ora vi lasciamo qua 4 caselline su cliccare per vedere i nostri altri challenge assieme I nostri slime I nostri video divertenti Cliccate su quella che preferite E buona visione Ciao Ciao Ciao